Una tassa piatta, una tassa liscia, pianeggiante, distesa, pareggiata, schiacciata, livellata, rasata e quindi da oggi niente termini inglesi che quando usiamo un termine inglese ci vogliono fregare ci illudono con parole come Brexit, spread, push up, ma poi alla fine sono senza tette, piatte, lisce, piallate come la flat tax, invece dici spingi su, sai già cosa ti aspetta, quindi una donna piatta, liscia, pianeggiante perché dobbiamo dire happy hour quando possiamo più italianamente dire facciamoci l'ora felice in quel locale dove c'è un bancone con dietro un signore che serve i caffè, perché devo dire wifi quando posso dire fedeltà senza fili, ed è per questo che domani io farò una diretta su faccialibro, su tutte le altre reti di lavoro sociale, facebook e social network almeno mi metterò davanti al mio elaboratore elettronico o più semplicemente davanti al mio telefono intelligente per dire a tutti di non usare più le parole inglesi, prima l'italiano ho insegnato nelle nostre scuole italiane, da insegnanti italiani, nati nelle valle italiani cresciuti con echi italiani, baccioni, ogni echi, addirittura, cos'è? ciumbia, mi è arrivato un cinguettio, un tweet, tweet, si può dire tweet, chi è? Francesca, la mia fidanzata, mi ha mandato un suo autoritratto fotografico, con indosso il nuovo scivolare preso nel negozio porco, aspetti che traduco, allora si è fatta un selfie per mostrargli i suoi nuovi slip presi in un sexy shop, però è scomodo, che carina, quanti etichetta cancelletto mi ha messo, hashtag però questo comunemente, etichetta cancelletto amore mio, adesso però le rispondo su cosa applichi, whatsapp, whatsapp, cosa applichi? amore mio, e se stasera ci ordinassimo a casa mia un bel cane caldo sul ciapassù? ordinate gli hot dog col take away? oppure se non ti piace il cane caldo mi scarico il libro del mangiare dalla ragnatela io e Francesca spesso ci accomodiamo sul divano con il mais esploso nella padella e quindi ci guardiamo una pellicola in 35 mm nella televisione piena di alta definizione, quindi scegliamo delle pellicole che ci piacciono, ieri abbiamo visto occhi ampiamente chiusi con Tommaso crociera e Nicoletta bimbo uomo, eyes wide shot con Tom Cruise e Nicole Kidman, ma li dica in inglese, ma almeno gli attori, parole italiane, parole che conosciamo, se li dici in inglesi poi ti fottono la trama, ma non è vero, gli attori diventano tutti clandestini, ci vogliono entrare nei nostri porti, per esempio stasera dobbiamo finire di vedere Lanciato lontano con Tommaso Matasse, cast away con Tommaso, e quindi anche se a Francesca piacciono più i film gialli, quelli vecchi, quelli di Alfredo Colpogallo, Alfred Hitchcock, che fatica però scusi. Se lei dice, lei dice, è carina, dice che senza la barba sono uguale a Gerardo Bottaio. Chi è? Gary Cooper, Gary Cooper. Cos'è? Ehi là, mi ha risposto. Ah che bello, cosa scrive? Etichetta cancelletto, con pollice indice a circolo e le dita dritte in alto. È un ok, ma neanche ok potete dirvi. No, perché se lo dici in inglese ti frega e diventa questo oppure questo. Oh!